Ciao ragazzi sono il piccolo rubi e questo è l'unboxing del pacco amazon che è enorme io mi sono fatto a un autoregalo perché io mi faccio anche gli autoregali dovete sapere e adesso lo approviamo insieme per vedere cosa c'è dentro ancora la herva la moscia oh santa madre aspettate che vi abbasso la telecamera così vedete anche voi meglio ecco qui ecco vediamo io lo sto aprendo la mazzo non può fare delle scatole che è un po' più umane no ma dopo una persona non deve aprirlo e fare una fatica oh che bello allora ho comprato lo sto aprendo eccolo qua allora innanzitutto ho comprato The Hunt eccolo qui saga di spotica con dove ci sono i vampiri voi sapete che sono in fissa per twilight quindi ho comprato ho comprato questo libro perché dovevo comprare questo e ho comprato questo qui guardate che bello mamma mia che bello questo allora voi mi chiederete ma che cos'è fatto anche in germania allora questo praticamente serve per fare le madeleine cosa sono le madeleine aspettate che mi metto meglio mi rimetto dritto ecco cosa sono le madeleine allora le madeleine sono dei dolci francesi a forma di conchiglia ecco io ho la pressione per i dolci quindi mi sono auto comprato questo siccome costava 7 euro questo doveva arrivare a 20 per non pagare le spese in petizione allora ho deciso di comprare il libro ecco questi sono i regali che io mi sono auto fatto perché io mi faccio gli auto regali fatevi i regali scusate eh fatevi i regali perché i regali fanno bene all'anima io vi rimando al prossimo video vi mando un grosso bacione ciao